Guanti in lana grigio verde austriaco anni 2000, guanto con bordatura elasticizzata, abbiamo il label interno alle volte in cui è riportata la composizione, distruzioni per il lavaggio e il mantenimento, lana all 85%, 15% di poliestere che li rende più resistenti, la taglia è unica, non è né troppo abbondante né troppo piccola, in quanto tende avendo le dita mobili fatti a manopola, dito indice per sparare libero, tendono a essere molto comodi, morbidi da portare, utilizzabili anche come sopra guanti, il polsino è molto alto, lo si può rovesciare, invernali molto spessi, ma al tempo stesso anche morbidi.